palcoscenico da categorie nettamente superiori quello del Curi di Perugia per il posticipo tra i padroni di casa ed il Pescara di Zdenek Zeman il Pescara parte subito forte con i fraseggi del suo tridente il portiere Adamonis ex terzo della Lazio si mostra però attento tanto sulla prima battuta di Merola che sulla seconda stavolta di Cuppone e tiene a galla i suoi al quarto d'ora ancora una conclusione di poco a lato stavolta con Accornero per il Delfino che continua a spingere con i suoi giocatori offensivi spazio anche proprio per i padroni di casa con la sfera scaricata dalla corsia di sinistra verso il centro la battuta a rete è però deficitaria e viene bloccata con grande facilità da Prizari il Pescara continua a premere e lo fa con un paio di conclusioni da fuori aria sia con Cuppone quanto con Aloy quindi l'occasionissima del primo tempo è un calcio di punizione di Bartolomei deviato con un bel volo da Prizari sul palo sulla ribattuta si fionda Acella che viene però murato da Pierno ancora una conclusione fuori dal bersaglio grosso per il Pescara e nel primo tempo non succede più nulla si passa dunque alla ripresa siamo al terzo c'è un'occasionissima con Cuppone che riesce a staccare in velocità i difensori del Perugia si ritrova quindi davanti ad Adamonis ma clamorosamente spara il piattone fuori rispetto ai pali degli Umbri all'inizio azione c'era stato un intervento con il braccio dello stesso Cuppone che avrebbe dunque dovuto portare al calcio di rigore per il Perugia i propri patroni di casa impensieriscono seriamente la retroguardia di Zeman con il nuovo entrato Vasquez la sua conclusione viene salvata con un miracolo da Prizari si resta dunque sullo 0-0 ma soltanto fino al 61esimo quando è il pressing alto dei Biancazzurri porta proprio Cuppone a concludere davanti ad Adamonis il portiere perugino risponde presente ma sulla ribattuta Aloi interviene e nulla può all'estremo di casa per quello che è il centro che sblocca di fatto la partita il Perugia sfiora 1-1 due minuti più tardi con un tiro da distanza davvero ravvicinata di Acella che termina sul fondo sul ribaltamento di fronte il Pescara va a millimetri dal raddoppio con l'inserimento del giovane D'Agasso ma prima il palo e poi sulla ribattuta aerea il portiere Adamonis impediscono la realizzazione del centro che avrebbe di fatto ucciso la gara il Perugia torna a farsi vedere con una doppia conclusione che però non impensierisce quanto servirebbe Prizari il pressing degli Umbri si fa via via più forsennato e a 7 minuti dalla fine della gara Cancellieri con il mancino riesce a trovare una parabola a dir poco perfetta per superare da calcio di punizione l'estremo Prizari ancora classe 2001 Cancellieri da posizione simile prova a bissare il capolavoro di qui sopra ma manda la sfera lontana dai pali del Pescara Pescara che poi avrà un'ultimissima opportunità clamorosa con Cangiano appena entrato e servito alla perfezione da uno spunto di Cuppone ma il tap-in non arriva con la porta completamente sguarnita e il risultato non cambia più al triplice fischio finale una partita divertentissima tra Perugia e Pescara termina 1-1 di Cangiano 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 di Cangiano